un'altra raga ma un altro errore e bentornati ho finalmente qui tra le mie mani l'album di debutto dv questa bella scatolina guardate che carina e super cute e non sono riuscita a trattenermi questa mi è stata gentilmente offerta da stardust ma questa non potevo rinunciarci e me la sono presa come si fa a dire di no a un album con questo packaging vi ricordo che album come questi li trovate da stardust layover tra l'altro ci ha messo anche un po ad andare sold out quindi se adesso è sold out è perché siete stati lenti soprattutto la versione weverse con i weverse preorder benefit che sono quelli che ho piccolo disclaimer io ho potuto scegliere anche i weverse preorder benefit del set perché ormai collaboriamo da più di un anno e c'è un rapporto di fiducia e di un grande dare avere da loro ricevo tantissimo e spero di riuscire a ricambiare un minimo tutta la fiducia e l'amore che mi danno ogni volta è una scatolina di cartoncino molto semplice vediamo un po cerchiamo di non spoilerare tutto per quanto riguarda i pool in realtà non ci sarà nulla di sorprendente perché vi oltre che essere bellissimo è anche una persona di una gentilezza pazzesca ogni versione dell'album ha un set intero di fotocarda che è uno e uno soltanto nel senso in questo album troverete un solo set di cinque fotocarda nella versione viola troverete un altro set di cinque fotocarda diverse nella versione azzurra troverete un altro set di cinque fotocarda diverse e non come succede spesso che ogni versione ha almeno uno più set e magari se hanno soltanto un set diverso per ogni versione ti danno tante volte una o due fotocarda in maniera che se vuoi completare la tua collezione ti devi comprare per ogni versione due o tre o devi scambiare eccetera eccetera e invece così se vuoi la collezione completa di fotocarda ti basta prendere le tre versioni dell'album e sei a posto più la weverse e voi direte è ma sono comunque quattro album è però sono solo quattro album e poi li sei a posto hai fatto finito credo che questo serva per scaricare che carino il ok è per scaricare l'album online tra l'altro è il mio primo album digital della Ibe ok questo credo sia il photobook tutto in bianco e nero no è il lyrics book ok e no non è tutto in bianco e nero che belli guardate c'è anche tan stavo guardando se fosse tan o rocky anche qua guardate tra l'altro la cosa stupenda è che nel suo merce ha fatto anche una magliettina dove c'è il centro tanni con il cappellino amore ok questo è il photobook ci sono un sacco di pagine per essere un photobook oh dio per essere un photobook così piccolino e anche i set che ci sono al suo interno sono molto vari mamma mia questo set qua è il mio preferito mi sa raga io vi faccio vedere tutte le foto con tanni sappiatelo mettetevela via queste sono le foto dello stile di love me again questo invece è di rainy days e qua abbiamo di nuovo tanni e vi questo è di blu slow dancing ecco qua finito ripeto per essere all'interno di una versione digital è veramente ricco come photobook qui abbiamo il cartoncino di weverse dietro ogni fotocard come potete vedere ci sono le lyrics della canzone a cui è dedicato vedete for us blue love me again slow dancing e rainy days vediamo un po' mamma mia che bello raga avrò un sacco di fotocard dv oh che si morde il labbrino cioè che con la bocchina un po' così che bello andiamo un po' per love me again wow qui slow dancing oh bellissimo e rainy days wow che bello per usare il codice nella versione weverse vi basta scaricarvi l'app weverse albums scansionate lo mettete a scaricare eccolo qui si album avete la tracklist dove potete suonare far suonare le canzoni avete le fotocard in hd sul cellulare not bad perfetto per uno sfondo del telefono vatti vedete le potete anche scaricare e il media sono tutte le foto credo all'interno dell'album anche se mi sembra di vederne qualcuna forse che non avevo notato sono 30 e secondo me non sono non sono quelle che sono nel nell'album ce ne sono che bella questa ce ne sono alcune che mi pare di non aver visto ok questo è tutto quello che potete trovare nella versione weverse di layover dv adesso passiamo alla versione verde per essere una versione digitale il contenuto è tanto perché 5 fotocard sono tante la haiba ha ultimamente un po' questo trend di fare le versioni digitali molto ricche apprezzo molto questa cosa soprattutto perché da noi all'estero le versioni digitali costano decisamente di più che da loro e avere 5 fotocard pagando 20 euro vale la pena averne una sola ti fa sentire un po' triste considerati poi magari contenuti digitali che sì sono belli però lasciano il tempo che trovano e il fatto che la musica poi magari te la vai a ascoltare su spotify quindi avercela sul cellulare come contenuto digitale o no ti cambia poco passiamo ora a layover in versione verde eccolo qui in tutta la sua bellezza con tanto di sticker dove c'è anche tanni questa è proprio una scatolina da spedizione e questo è il retro banda le ciance ok iniziamo con la lettera è molto carina questa cosa qua raga adoro adoro tantissimo guardate chi c'è tra l'altro c'è una roba strana qui è tipo per sollevarlo prendendolo dal nasino non ci credo no vabbè raga questa roba qua è pensata per fargli il boop nel nasino cioè non so se avete capito boop vabbè sto morendo abbiamo sempre la nostra tesserina weverse vediamo tutto il resto vedo già che c'è un poster quindi iniziamo dal poster oh mamma mia mamma mia lui e tanni questo sicuramente lo appendo è piccolino ma come si fa a non metterlo in camera raga io amo questi due li amo ok è tutto così intimo e tutto urla così tanto Taehyun che cioè è proprio il suo album questo non ho idea di cosa sia non credo sia un photobook questo è il davanti e questo è il dietro ok è un insieme è tipo un retroscena dei vari video guardate molto bello devo dire molto molto bello ve lo faccio vedere tutto perché tanto sono poche pagine ok questo cos'è? oh è per scriversi gli appunti è tipo un aspetto di block notes è un coso di promemoria per scriversi le cosine ce la farò a usarlo? secondo voi riuscirò a usarlo? devo provarci? almeno qualcuna devo provarci? partirò dall'ultima in fondo così questa rimane attaccata è carino e poi guardate sono tanti eh non sono pochi quindi le puoi usare per un po' il photobook raga è un bel malloppone eh e niente iniziamo già così bella mi piace questa foto con accanto tipo altre versioni della foto quasi fosse o in row o in vabbè versioni alternative amori il suo sorrisino quadrato che carino che è in questa foto raga non lo so mi ricorda il tè dei primi anni dei BTS ma anche qui anche qui c'ha quella faccia di uno che sta per combinare qualcosa tra l'altro io amo davvero con tutto il mio cuore che abbia incluso così tanto il suo piccolo in questo suo lavoro solista cioè di cosa stiamo parlando? devo dire di aver scelto la versione giusta perché queste foto qua mi piacciono tutte io lo preferisco con i capelli scuri con questi capelli lunghini poi era veramente pazzesco e quindi io ho veramente il cuore pieno 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 della sua bellezza ma proprio pieno sta per esplodere cioè guardate questa foto se non lo descrive mi ricorda una sua vecchia foto con questa espressione qua cioè quanto amabile tutto questo e questo qua è il retro abbiamo il cd che fa molto cd masterizzato dove scrivevi sopra cos'era e la data o i cd compilation che facevi e regalavi a qualcuno o ti tenevi per te poi questo credo che sia il lyrics paper così sì che si apre così a ventaglio e dietro questo lyrics paper è tantissimo ador guardate come hanno scritto alcuni dei testi cioè mi ricorda tantissimo quello che hanno fatto con le new jeans abbiamo questa la busta eccola qui e poi abbiamo i nostri pre-order benefit due postcard ok sempre con il testo cosa c'è wow mi sembra che nel caso delle postcard forse cambiano a seconda forse ce ne sono più versioni dentro ogni album blu 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 bella blu 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 molto bella queste ad esempio sono di cartoncino abbastanza fine rispetto alle solite postcard quindi sono un po' stranita perché sono sei? va bene abbiamo sei photocard in questo caso pensavo fossero cinque due sono love me again una blu una slow dancing una for us e una rainy days ok oh sì guardate mi sa che questa è l'unica versione dell'album dove si vedono insieme così bene te e tanni vediamo l'altra di love me again un'altra raga ma un altro errore non ci voglio credere devo guardare dopo ok vuol dire che ho avuto una cosa in meno tecnicamente sono confusa va bene ok oh eccolo qua di nuovo insieme però questo qua mi sa che è rocky ma anche questo qua nella foto mi sa che è rocky perché è troppo piccolino bellissimo andiamo per for us wow e l'ultima così un po' serio molto stile fototessera è arrivato il momento di farvi vedere Weverse Preorder Benefit allora se non sbaglio questo è quello che viene è il Weverse Preorder Benefit normale ovvero un portatessere c'era anche nero e anche trasparente l'ho scelto bianco eccolo qui vedete ci potete mettere le tesserine dietro ho avuto anche questa fotocard guardate che bella con il piccolo Rocky poi ho avuto tipo questo porta cose porta fotocard non lo so però guardate che amore e dentro ci potete mettere questa vedete diventa tutto così adorabile ve la faccio vedere bene è tipo quella che c'è anche nella versione di J-Hope vedete sono molto simili come idea e infine ciao ciao cartolina olografica di V ah e la cosa bella di questa postcard è che dietro come vedete la potete piegare e sta in piedi da sola quindi appunto farà compagnia lì dietro anzi possibilmente lì sopra perché la zona BTS è tutta la parte sopra questo è tutto quello che ho trovato nella versione verde di layover di V e questo è tutto quello che ho trovato tra la versione Weverse la versione verde con i più tutti i preorder benefit Weverse del set spero che questo video vi sia piaciuto io sono troppo contenta di avere una cosa del genere doppiona così regalata totalmente dalla fortuna fatemi sapere voi che versione avete scelto se siete indecisi o cosa secondo me questo album è bellissimo è di una tenerezza infinita è il perfetto album tra l'altro a livello di canzoni per rilassarsi più passa il tempo più mi piace nonostante inizialmente fossi molto resti alla cosa fatemi sapere se anche voi avete trovato qualcosa in più e cosa in caso e ci vediamo nel prossimo video e nel prossimo unboxing ciao 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 ciao